Era palese la sproporzione tra i redditi dichiarati negli ultimi 5 anni e il valore del patrimonio riconducibile a un imprenditore legato a un clan catanese di Cosa Nostra, per questo dopo un'attenta indagine patrimoniale condotta dalla divisione di polizia anticrimine della questura di Padova e dalla compagnia della Guardia di Finanza di Este, su proposta del questore di Padova il Tribunale di Venezia è disposto alla confisca di quote societarie e beni per un valore quantificato in 10 milioni e 700 mila euro. A disposizione dell'amministratore giudiziario nominato dal Tribunale vi sono quindi quote in 17 società di capitali, 13 immobili e 3 terreni tra le province di Belluno, Milano, Venezia e Vicenza nonché 3 auto. Il soggetto era già stato condannato dalla Corte di Appello di Catania per vari reati tra i quali associazione di stampo mafioso e dal Tribunale di Rovigo per associazione delinquere per truffa. La base operativa veneta delle società legate al Catanese si trova nella bassa padovana, da dove aveva continuato a perpetrare una serie di truffe in tutto il nord Italia ai danni di ignare aziende portate sull'orlo del fallimento dopo avergli venduto diversi milioni di euro di merci che non erano mai state pagate.